Freddo, 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 mi so fatta la barba, tengo comunque freddo Buongiorno amici della zaccolatura, buongiorno, buongiorno, buongiorno Ma che freddo fa, ma che freddo fa, ma che freddo fa, ma che freddo fa Dovrebbero dire quelli che sono sotto di noi in classifica, noi siamo lì, secondo posto, meno uno E vediamo stasera, everything, everything stasera cosa facciamo Allora ragazzuoli, due argomenti caldi e scottanti in questo freddo Oggi 0 gradi, Milano 1 grado, dipende dove ti sposti Quindi sarà una partita molto fredda e difficile, ve lo dico no perché vi interessa che io ho freddo Ve lo dico perché gioca al Milan e quindi sarà freddo, sarà molto freddo Detto questo, domani mi lancerò in un'avventura Non sarà un'avventura, quindi seguitemi su Instagram Iscrivetevi al canale e mettete like Ma seguitemi su Instagram perché domani andrò a vedere il derby delle girls Eh sì, mi voglio lanciare in questa avventura Tanto giocano dietro casa mia, gli Alvis Mara Ci sarà Garrincio delle vibrazioni, ci sarà Miriam Su, poi ci saranno un po' di persone Grazie a Star Casino andiamo là E quindi domani seguitemi su Instagram perché sarà il derby delle girls Domani alle due e mezza Detto questo, due argomenti caldi e scottanti Primo argomento è la premiazione di che sì Secondo argomento c'è la partita Perché oggi si gioca alle 15, orario brutto 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 Mi avete scritto, diversi di voi mi hanno scritto Cosa ne pensi della premiazione di che sì È una vergogna di qua e di là, di su e di giù Voi sapete benissimo qual è la mia linea Il mio parere per quello che riguarda chi non rinnova E questo vale ovviamente anche per che sì Però Perché tu però ce lo devi mettere il però colombiano Però In questo caso Allora tu hai due strade no? Sei un incrocio O vai a destra o vai a sinistra Se tu fai la strada che dico io Che fai la strada della penitenza La strada via Crucis Chiamiamola così per dargli un nome che raffigura Allora tribuna E premi non ce n'è Anche perché non le fa le presenze Tribuna, niente premi Pane acqua Doccia fredda Ti immagini chi non rinnova fa la doccia fredda Sarebbe bellissimo E allora Quella è una strada La strada della via Crucis Se tu fai un'altra strada Che io l'ho definita Già l'anno scorso La strada dell'amore La strada dell'amore Che ha miseramente ovviamente fallito con Ciaranoglu Stramiseramente fallito con Donnarumma Però Però Quella è la strada dell'amore Se tu fai la strada dell'amore Allora è coerente È tutto giusto Cioè Il fatto di aver premiato ieri che sì E il fatto di trattare i giocatori in un certo modo Da un lato Da un lato Fa sì che poi i giocatori se ne sbattono E nessuno rinnova E ci vediamo a scadenza E quella è la verità Perché è così Dall'altro lato Però non è che c'è solo svantaggi Dall'altro lato Chi è fuori Un giocatore che non gioca al Milan E lo vede E vede come un giocatore viene trattato al Milan Anche in scadenza Lo vede il giocatore che è esterno Che al Milan ti coccolano Ti difendono dalla stampa Ti difendono dai tifosi Che poi i tifosi Soprattutto quelli della curva Non attaccano mai i giocatori Lo sapete Finché giocano con il Milan Non li attaccano mai A differenza mia Lo vede il tifoso da fuori Il giocatore da fuori Lo vede Che lo premiano E questo cosa fa? Fa sì Che a me mi interessa andare in quella squadra Cioè io da calciatore Voglio andare in quella squadra Poi di solito Quelli che vogliono venire Non sono i campioni Che vogliono i soldi Sono quelli che vogliono star bene Perché quelli che vogliono i soldi Ovviamente non vengono da noi Perché noi gli diamo E quindi Quando tu non hai i soldi Per andare a comprare Quello Che vale Con questa Strada dell'amore Fai sì Che quelli che magari Non ti chiedono un patrimonio Se devono scegliere Preferiscono una società Come il Milan Una società sana Una società che ti coccola Una società che ti dà i premi Eccetera Che ti fa giocare Che fa un bel calcio Può vincere Eccetera Quindi io sono favorevole A questa scelta Nel senso che È coerente È coerente Con la strada dell'amore Se avessi scelto L'altra strada Che io preferisco E prediligo Avremmo fatto In maniera diversa Purtroppo Abbiamo O meglio Io avrei scelto Una via di mezzo Cioè Per chi non rinnova La via crucis Per tutti gli altri La strada dell'amore Però È una cosa mia Il Milan ha scelto Questa strada Li tratta così Hanno un certo Lo stile Milan Sai anche Gazzidis Ormai è diventato Mettiamo da parte La malattia Purtroppo È successo Per fortuna Adesso Sembra che stia bene Eccetera Però ormai C'è una visione di Gazzidis Prima c'era una visione di Gazzidis Che era quello Che doveva portare Le sponsorizzazioni E non le ha portate Neanche mezza Adesso sembra Che qualcuno la porta Ovviamente non si parla mai Di cifre Perché sono Tutte più basse Degli altri Però non si parla più Di Gazzidis Come uno Che deve lavorare Che guadagna 4 milioni E deve portare sponsor Mai si parla Di Gazzidis Come sai Quell'essere buono E generoso Che gira nel Milan Che porta La bontà Porta l'educazione Porta Lui No lui è quello Che ti vuole bene Quello Quello che tiene insieme Il gruppo Va bene Ha preso quel ruolo Lo sta facendo Anche bene Tra l'altro Mi piace L'idea Che dà del Milan Fuori da Milano Comunque È un personaggio Internazionale Quindi Ormai ha quel ruolo Lì Meno male Il nostro Porta sponsor È sempre Fantasmino Casper Che ieri ho visto Che è andato Per la prima volta Alla scala Il nostro Manager Degli sponsor Non so come si chiama I nomi inglesi Quelli lunghi Ieri è andato Alla scala Era contento Qua a Milano Con la sua donzella Perfetto Importante Che trovi gli sponsor Che è la cosa Che conta Alla fine Quello fa di lavoro E quello conta Comunque Sono favorevole Da sta cosa Di che sì Mi è piaciuto Si è visto Cioè Quelle sono le cose Che comunque Al calciatore Fanno riflettere Cioè Ormai che sì Andrà da altre parti Ma se c'è Un 1% Che lo fa riflettere Sono quelle cose Tipo ieri Che dentro di sé Dice Oh ma sono sicuro Che voglio andare via Da sta società Che mi vogliono bene Anche se sono un pezzo Di fango E non dico altro Un secondo Poi dice No no Meglio i soldi Però un secondo Ci pensa almeno C'è la partita Oggi si gioca Alle 15 Un brutto orario Ve l'ho detto Fa freddo Le mie paure Purtroppo Si stanno avverando Nel senso Che dovrebbe partire Titolari Per il titolare Pellegri E non Ibra Non sono d'accordo Io sapete le cose Le dico prima Mi sbilancio prima Così da essere Sbugiardato Non c'è problema Che poi vabbè Per le persone Messias mi ha già Sbugiardato Io dico Prendiamo Ziyech No abbiamo preso Messias Ha fatto due gol Hai visto Chiedere scusa a Messias Ho capito Ma se prendevamo Ziyech Quante ne faceva Quest'ora 15 Comunque Lasciamo perdere Non è che io ho detto Che Messias è scarso Ho detto che volevo Ziyech Che è una cosa Un po' diversa Che poi non volevo Manco Ziyech Andiamo avanti Siamo rimasti così Poi al mercato Spero di essere Sbugiardato A Pellegri Però Una difesa Come quella Della Salernitana Che viene a San Siro E sarà Barricata Col coltello In mezzo ai denti Sono proprio Le classiche difese Dove serve Ibra Per sbloccarla Serve Ibra Per sbloccarla Poi magari Dopo che l'hai sbloccata Ci puoi mettere Dentro Pellegri Ma per sbloccarla Ti serve Ibra E' anche vero Che poi Mercoledì c'è l'Iber Martedì Mercoledì Non mi ricordo Forse martedì Quindi Da fare una riflessione Sicuramente Lo mette comunque Con la tre quarti migliore Perché gli mette dietro Selemaker Diaz Leao Così sembra Quindi lo mette Nella condizione migliore Per esprimersi Oh Pellegri Pellegri Tocca a te Fammi vedere Fammi vedere Che la sblocchi Che Ribadisco Domani la cosa fondamentale È sbloccarla E poi Ovviamente Non dovremmo prendere gol Ecco io Piuttosto che Pellegri Magari avrei rischiato Qualcosa dietro Avrei rischiato Di più Un centrale dietro Per far riposare qualcuno Non è detto Che se il risultato Dovesse mettersi bene Cioè Sopra i due gol di scarto Cosa difficile Perché è difficile Sbloccarla Però Se si dovesse mettere bene Spero E penso Che Pioli Tolga Tomori E me lo riserva Per il Liverpool Perché quello Non si stanca mai Che è una bestia Però Spero almeno quello Vediamo Speriamo bene Ci vediamo ovviamente Post partita Sarò a casa E poi Ci sentiamo Stasera In live Sui fuorigioco Faremo la live Perché oggi giocano tutti C'è Inter-Roma C'è Napoli-Atalanta Quindi Stasera Vediamo cosa succede Noi pensiamo a vincere la nostra Che è una partita difficile Soprattutto da sbloccare Poi se vinciamo la nostra È tutta in discesa La strada È tutta in discesa Iscrivetevi al canale Mettete un like Mi raccomando Instagram Che domani Vado a vedere le girls Le girls Votiamo la La più bella O la più brava Tutte e due La più bella e la più brava A domani Grazie